Yakuza Like a Dragon rappresenta un punto di svolta importante per la serie Sega. Si tratta infatti di un capitolo rivoluzionario che non cambia solo ambientazione e protagonista, ma anche il gameplay a cui tanti fan si erano affezionati nel corso degli anni. Quando manca ormai poco all'uscita, abbiamo provato una versione completa su PC e una demo su Xbox Series X, mossi da una certa curiosità nei confronti della localizzazione in italiano, ma anche sulle nuove meccaniche JRPG e soprattutto del comparto tecnico su Next Gen. Ecco le nostre impressioni dopo diverse ore di gioco. Archiviata la lunga saga di Kazuma Kiryu, Yakuza Like a Dragon introduce il personaggio di Ichiban Kasuga, un giovane membro della famiglia Arakawa che stravede per il suo patriarca e accetta di buon grado di assumersi la responsabilità di un omicidio che non ha commesso per il bene del clan. Dopo 18 anni di carcere, però, Ichiban scopre che le cose sono cambiate e rischia subito di perdere la vita. A quel punto parte una campagna suddivisa in 15 capitoli, ricchi di colpi di scena, una quantità enorme di missioni secondarie, attività extra e personaggi memorabili. Fra questi rientrano anche i membri della squadra. L'ex infermiere senza tetto Namba, l'ex poliziotto Koichi Adachi e l'hostess Sae Komu Kwoda. Ognuno di questi combattenti mette a disposizione abilità uniche e peculiari che si ha modo di sbloccare e che cambiano a seconda del mestiere scelto di volta in volta. Il primo contatto con le meccaniche JRPG è strano. Quando si incontra un gruppo di nemici ci si isola dallo scenario e compaiono menu tradotti in italiano con le opzioni per l'attacco di base, le tecniche, la difesa e gli oggetti, che includono anche risorse extra come i pestamici, potenti alleati da chiamare in caso di bisogno ma che talvolta richiedono il pagamento di una somma per le proprie prestazioni. Non poter menare le mani liberamente si traduce però in una sensazione di distacco emotivo che fa perdere mordenti all'intera esperienza, specie quando è il gioco stesso a far montare la rabbia nei confronti di un avversario. Bisogna quindi mantenere la calma, ragionare strategicamente, concentrare gli attacchi sui singoli bersagli e fare attenzione a curare le ferite prima dello scontro successivo, perché l'atto di mangiare uno snack andrà a consumare il turno di uno dei personaggi. Le meccaniche cominciano a vantare un certo grado di varietà solo verso un terzo della campagna, quando si sbloccano altri elementi strutturali come i mestieri. I personaggi possono infatti cambiare lavoro recandosi presso un ufficio di collocamento, ottenendo man mano le competenze richieste dagli impieghi migliori. Il tutto si traduce in un vero e proprio job system che va a modificare caratteristiche e repertorio di ogni membro del party a seconda della professione. Ichiban, che affronta la vita come fosse un episodio di Dragon Quest, parte con la professione dell'eroe, ma può diventare una guardia del corpo e brandire una potente spada di legno con cui colpire gli avversari. Namba, dal canto suo, può ambire a fare il musicista e picchiare i nemici con la chitarra, oppure lanciandogli contro il suo ultimo CD. Ogni lavoro vanta una progressione separata che consente di sbloccare nuove mosse e di migliorare le statistiche generali. Armi e corazze svolgono un ruolo decisamente più rilevante rispetto al passato e sono praticamente obbligatorie prima di affrontare determinate missioni. Un'altra grande novità è l'ambientazione completamente inedita, ovvero il quartiere fittizio di Isesaki e Jincho a Yokohama. La mappa vanta la tradizionale enorme quantità di attività extra ed è tre volte più grande di quella di Kamurocho, che pure è visitabile nel gioco. Oltre a minigiochi classici come il Batting Center, il Mahjong e il Karaoke, ci sono le nuove corse per la raccolta delle lattine, le gare di go-kart, il cinema vintage in cui bisogna lottare per non addormentarsi mentre si guardano pellicole improbabili, la scuola di formazione con i suoi quiz a risposta multipla e naturalmente i Club Sega in cui fare qualche partita con Space Harrier, OutRun, Super & Gone, Fantasy Zone, Virtua Fighter 2 e Virtua Fighter 5 Final Showdown. Restano tuttavia alcune perplessità riguardanti il clamoroso cambio nel gameplay. Se infatti la formula tradizionale della serie si riduceva allo spostarsi dal punto A al punto B della mappa, passando di cinematica in cinematica per far proseguire una trama sempre all'altezza della situazione tra un combattimento e l'altro, gli scontri attorni non possono vantare lo stesso grado di coinvolgimento e risultano più ripetitivi. La sensazione è che quegli aspetti che finivano per distrarre da alcune evidenti mancanze strutturali in questo nuovo episodio siano stati sostituiti da elementi non altrettanto efficaci. A tutto questo si aggiunge poi una trama che ha i suoi bei momenti, ma fatica un po' a decollare. Tante buone notizie, invece, sul fronte della realizzazione tecnica. Kamurocho non è mai stato così bello e Yokohama ha tantissimi panorami suggestivi. Il nuovo sistema di illuminazione migliora anche la resa diurna degli scenari, che appaiono meno piatti del solito e su PC con una GTX 1080T scorrono a 60 fps fissi con tutte le impostazioni al massimo fino a 1440p. Nulla da fare invece per i 4K con il massimo dei dettagli. In quel caso si arriva solo a 30 fps stabili nella configurazione di prova. La versione Xbox Series X offre invece tre diverse opzioni. Normale, alta risoluzione e frequenza dei fotogrammi elevata. Nella modalità alta risoluzione il gioco punta tutto sulla qualità dell'immagine, spingendo al massimo l'orizzonte visivo e gli effetti su schermo e lavorando di fino su riflessi e rifrazioni che appaiono ben visibili soprattutto nelle ambientazioni notturne. Con questo settaggio il framerate sembra bloccato a 30 fps indipendentemente dalla complessità dello scenario. La modalità frequenza dei fotogrammi elevata punta a 60 fotogrammi al secondo granitici, raggiunti riducendo la qualità grafica e la risoluzione nativa. Si notano dettagli di qualità inferiore e i riflessi nelle pozzanghere appaiono meno definiti. Più criptico invece il settaggio grafico denominato normale, impostato di default all'avvio. Con questo si viaggia ad un framerate prossimo ai 60 fps, mentre la qualità grafica sembra subire dei piccoli cambiamenti a seconda della complessità della scena renderizzata su schermo. Probabilmente questa impostazione modifica in tempo reale la qualità del rendering per far sì che il framerate sia il più vicino possibile alla soglia dei 60 fps, ma senza che questi siano granitici. A livello di giocabilità e resa su schermo è sicuramente il settaggio più equilibrato. Degna di nota anche la velocità dei caricamenti. Al di fuori di pochi secondi di attesa quando si avvia una nuova partita, si cambia l'episodio della storia o si carica un salvataggio, tutto procede spedito e senza interruzioni. Persino le scene d'intermezzo possono essere saltate al volo con la pressione di un tasto, senza dover attendere il classico caricamento che rimane nascosto in background. La prova di Yakuza Like a Dragon conferma le qualità tecniche e strutturali del nuovo episodio della serie Sega, che riparte da zero con un nuovo protagonista e una nuova ambientazione, nonché il tradizionale pacchetto di attività extra, missioni secondarie fuori di testa e un trama con degli ottimi momenti. Restano però dei dubbi sui profondi cambiamenti apportati al gameplay, che sembrano depotenziare l'esperienza, esponendo le debolezze storiche della serie senza offrire una contropartita adeguata. Yakuza Like a Dragon sarà disponibile dal 10 novembre su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S, mentre la versione PS5 arriverà il 2 marzo 2021 con upgrade gratuito dalla versione PS4. Voi cosa ne pensate del cambio di gameplay e protagonista? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto e se il video vi è piaciuto non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina e di lasciare un bel mi piace per sostenere il nostro lavoro. A schermo trovate alcuni suggerimenti che possono interessarvi, grazie per aver guardato fino alla fine. Grazie per aver guardato fino alla prossima.